Sabato prossimo tanti teramani, ma non solo, si ritroveranno in cattedrale a Peramo per partecipare alla tradizionale camminata al chiaro di luna che in circa otto ore li porterà fino al santuario di San Gabriele ad Isola del Gran Sasso. Un percorso di circa 27 chilometri che li avvicinerà ancora di più a Dio, come spiega padre Francesco Cordeschi. Avvicinano il popolo di Dio a San Gabriele, ma li avvicina Dio. Il pellegrinaggio intanto nasce dal popolo, è la gente che sente il bisogno. Non c'è un'organizzazione, non c'è un tesseramento, non c'è un richiamo telefonico, no, c'è solo un avviso dato con i manifesti. E poi il popolo di Dio sente il bisogno di rendere visibile quello che sente nel cuore, la speranza. Trasforma il desiderio del cuore in un camminare. E chi cammina apre la strada e chi cammina segna nuovi indirizzi, nuove vie, nuove speranze. È quello che noi tentiamo di fare con i giovani. Diamo qualche riferimento a coloro che vogliono partecipare al pellegrinaggio. Molto semplice, vi aspettiamo tutti chi desidera venire al Duomo per le 9 dove ci raccogliamo. Alle 10 si parte, tra le 9 e le 10 c'è un saluto, ci sarà presente il Vescovo, faremo il Santo Rosario. Alle 10 partiamo verso l'Isola del Gran Sasso, arriveremo a Montorio verso l'1.30 dove la comunità ci offre da sempre un ampio rinfresco per arrivare a Santuare San Gabriele verso le 6 della mattina. Grazie a tutti.